Una storia di rinascita per accompagnare un'altra rinascita. Nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, in Piazza Duomo, le Anime Sante, uno dei simboli della distruzione del terremoto, da poco divenuta simbolo invece di rinascita e speranza, per iniziativa dei club Rotaract e Interact dell'Aquila, si terrà sabato 16 febbraio alle 19 un concerto d'organo a ingresso libero, ma nel quale verranno raccolti fondi per il recupero, tramite la fondazione SOS Cristiani d'Oriente, di una chiesa di Aleppo, in Siria, distrutta non dal terremoto, ma dalla follia della guerra. A esibirsi sull'antico organo della chiesa, l'organista aquilano Carlo Ferdinando De Nardis e in due canti spirituali di Max Reger, che prevedono anche la voce, la sorella, la giovane soprano Aloisia De Nardis. Il concerto si aprirà con una storia interrotta, il Contraptus XIX dell'arte della fuga, ultima composizione scritta da Bach e lasciata incompiuta per la sua morte. Uno dei temi di tale pezzo ha costituito dalle note di Si bemolle, la Do Si, ossia in notazione alfabetica, Bach. Tale tema Bach, omaggio al grande compositore, costituisce il filo conduttore del resto del programma, dalle fughe di Schumann, un ricercatore di Casella e un virtuosistico preludio e fuga di Litz. SOS Cristiani d'Oriente è un'organizzazione internazionale impegnata nella difesa, nella tutela e nel sostegno della rinascita delle comunità cristiane d'Oriente, comunità millenarie dell'eredità culturale inestimabile, la cui esistenza è messa in pericolo dalle guerre e dal fondamentalismo.